I nuovi ministri del governo, ora oggi il titolare dell'interno Matteo Piantedosi al nostro giornale elenca le priorità, affronta il tema immigrazione alla luce anche delle ultime notizie dal Mediterraneo. C'è una richiesta di soccorso da un'imbarcazione in difficoltà con 400 persone a bordo, si aggiunge a quella di altre due navi che chiedono un porto sicuro. E quello dell'immigrazione è solo uno dei temi affrontati dal ministro in questa intervista esclusiva. Sentiamo. I temi sono quelli di cui si scrive tutti i giorni, questa recrudescenza di violenza giovanile, le cosiddette baby gang, il monitoraggio dei possibili riflessi sulla tenuta dell'ordine pubblico, della debuta, crisi socio-economica. E poi c'è il tema dell'immigrazione che è una costante, noi stiamo facendo delle opportune valutazioni. Le faremo a breve anche nella sede più appropriata che il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ho in animo di convocare a brevissimo per avere anche il punto di vista delle varie forze di polizia. Immigranti, tema di strettissima attualità anche in queste ore, perché ci sono navi che chiedono un porto sicuro. La linea quale sarà? Gli aspetti che inducono ad assumere atteggiamenti, che richiedono una certa sensibilità, chiaramente vengono prima di tutto. Quindi la salvezza della vita delle persone, l'approccio umanitario. Certo è che ovviamente tutto quello che potesse essere finalizzato a prevenire che ci siano questi viaggi, che si trasformano a volte anche in viaggi della morte, e chiaramente sarà anche questa la nostra attenzione. Abbiamo il sistema di accoglienza che comincia ad essere un po' stressato e quindi da fare in modo che una crisi di tipo umanitario non si trasformi in un problema per la sicurezza delle città. Il rischio di tensioni sociali visto il momento, lei come la vede? È preoccupato? No, è chiaro mantenere alta l'attenzione doveroso da parte di chi ha responsabilità di governo. Non sono preoccupato perché conosco la capacità di rielesidienza del nostro paese. Sono testimoni e privilegiato di questa nuova esperienza di governo e quindi della volontà di fronteggiare con tutti gli strumenti possibili quelli che possono essere le ricadute peggiori, quindi voglio almeno in questa fase lanciare un segnale di ottimismo che non è sottovalutazione e quindi per quello che mi riguarda imporrà di mantenere alta l'attenzione. Bruno Sokolovic, GRU